e al comando Romelias all'esterno c'è Revenge Boss che addirittura ha perso il numero in avanti Romelias, a largo c'è Revenge Boss, Revenge Boss che passa nei confronti di Romelias quindi Renoir Rab rimasto allo scoperto punta in avanti, quindi Renoir Rab che va a chiedere strada proprio a Revenge Boss Renoir Rab che attacca Revenge Boss, Romelias a seguire, poi Rosso Nero Egral, quindi Rembrandt Black chiude il favorito Regius Renoir Rab che è passato su Revenge Boss dalle retrovie, si mette in moto proprio Regius e quindi Regius che ora cerca la progressione esterna, progressione per il momento efficace con Renoir Rab che controlla, Revenge Boss che ritorna a chiedere strada a Renoir Rab, quindi Regius a largo in avanti è passato nuovamente Revenge Boss, quindi Regius a largo, quindi Rosso Nero Egral che prende come punto di riferimento il numero 2 di Regius e quindi Revenge Boss, Regius a largo quindi il numero 3 di Rosso Nero Egral, Revenge Boss che viene preso di mira da Regius, Rosso Nero Egral alle prese con il numero 6 di Renoir Rab, davanti Revenge Boss, Revenge Boss, ancora Regius a largo di Revenge Boss, quindi Renoir Rab, ancora Rosso Nero Egral, Revenge Boss che vende cara la pelle a largo si ingamba anche Rembrandt Black e quindi Revenge Boss, Regius, Rembrandt Black a largo, Revenge Boss e Regius alle prese quindi Rembrandt Black in posizione a sé invitante, quindi Revenge Boss ancora Regius, quindi Rembrandt Black, Regius che sta cercando di passare a Revenge Boss ma deve vedersela con Rembrandt Black che prova a venire via e quindi Revenge Boss che cerca di difendersi da Regius, ancora Rembrandt Black Revenge Boss, Regius, ancora Rembrandt Black, battute finali con Rembrandt Black a centropista e Rembrandt Black che viene a vincere facilmente nei confronti di Revenge Boss che è secondo, terzo e numero uno